Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini perde addirittura il 10%. Di cosa parliamo? Parliamo di un sondaggio dove c'è il gradimento dei leader politici. Vediamo che questo sondaggio condotto da Demos e Pi per Repubblica nei giorni successivi all'elezione di Mattarella al Colle. Il gradimento del presidente del Consiglio Mario Draghi è calato dal 70 al 65%, pur rimanendo molto alto in termini assoluti. Ma ormai abbiamo capito durante questi anni di telecronache politiche che chi governa i vari presidenti del Consiglio in carica hanno sempre un gradimento molto alto. Oltre a Mario Draghi scende anche Roberto Speranza che passa dal 49% di gradimento al 40%. Attenzione che queste sono risposte multiple. Quando fanno qui il gradimento per i politici, perché voi dite come 49-1, l'altro 65, l'altro c'ha il 50, ma la somma dovrebbe fare 100, no? No, sono delle risposte multiple. Ogni intervistato può fare una classifica da quello che piace di più a quello che piace di meno. Per questo che le percentuali sono queste. Dicevamo che Draghi passa dal 70 al 65%. Speranza passa dal 49 al 40%. Dario Franceschini, ministro della cultura del PD, passa dal 43 al 32%. Voi direte, caspita, però anche lui perde 11 punti percentuali, però non fa notizia. E non fa notizia perché non è un capo politico, non è a capo di un partito, è un ministro. Pertanto, quello che fanno notizia sono i capi politici, più che i numeri 2, numeri 3, numeri 4 e numeri 5. Giancarlo Giorgetti scende dal 35 al 28, perde un bel 7 punti percentuali, ma comunque il numero 2 della Lega è un ministro. Tra i capi partito, invece, quello che è più interessante sono le percentuali loro. Giuseppe Conte passa dal 53 al 49%. Perde 4 punti percentuali. Meno 4 punti anche per la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che passa dal 43 al 39%. Il segretario del PD, Enrico Letta, vincitore di queste elezioni quirinalizie, perde 7 punti percentuali in 5 mesi, calando dal 43 al 35%. Ancora peggio fanno i leader di Lega, e forza Italia Berlusconi, Matteo Salvini. Nel sondaggio Demos, Salvini è dato in crollo di 10 punti pieni, dal 36 al 26% nel favore degli italiani. Mentre Berlusconi perde 9 punti percentuali, dal 40% al 31%. Giù anche Gigi Di Maio, mi scusi se la chiamo Gigi, fa simpatia quel nome Luigi, dal 37 al 30%. Carlo Calenda dal 30 al 24%. Mentre Matteo Renzi, di Italia Viva, guadagna un punto, rimanendo però in fondo alla classifica di gradimento, col 19%. Renzi, poveraccio, è sempre in fondo a sta classifica, ed era uno che aveva il 42%. Meglio solo di Beppe Grillo, che è all'11%. Ma Beppe Grillo, come lo consideriamo, non è un capo politico, Beppe Grillo è un comico, un comico genovese, che vabbè, non fa più ridere, però in teoria è un comico. Alla domanda su quanto tempo il governo Draghi resterà in carica, dopo il Mattarella bis, il 75%, cioè 3 italiani su 4, dice fino alla fine dei tempi. No, è uno scherzo. Fino alla fine della legislatura nel 2023. Solo il 17% dice ancora per qualche mese. Vediamo che da questo sondaggio vediamo una disaffezione per la politica. Avete visto che tutti i leader sono in calo, chi più chi meno. Cioè chi ne è uscito bene dalle elezioni del Quirinale ha perso tra 4 e 7 punti percentuali. Chi ne è uscito male ne ha persi 10, chi ne ha persi 11. Tra lui e Giorgetti ne hanno persi veramente tanti. Però, perché Giorgetti sembra che sia tra quelli, passa dal 35, no, Giorgetti passa dal 35 al 28. Chi è che ne ha persi 11? Ne aveva persi 11 Dario Franceschini. Però Dario Franceschini, diciamo, in questo momento è solo un ministro. Non è né numero due né capopartito eccetera. Bene. Insomma, questi sondaggi stanno dimostrando una disaffezione degli italiani verso questa politica per caso. Perché realmente abbiamo visto una politica per caso, purtroppo. Ma andiamo a vedere anche la supermedia Utrend. La supermedia Utrend, che è la media dei sondaggi EMG, Euromedia, XE, Piepoli, SVG e Tecne, danno il primo partito, se non sbaglio, sempre il PD con il 21%, seguiti da Fratelli d'Italia con il 19,8% e dunque si confermano pressoché stabili nelle prime due posizioni. Recupera qualche decimale i 5 stelle al 14,5%, Forza Italia cala dello 0,3% ed è all'8%. Quindi questi sono i numeri. Pertanto io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e ricordatevi che c'è anche l'altro canale che si chiama Tele Italia Seconda Rete, dove trovate video di notizie politica di fai da te. Poi questi due canali con i loro video, i loro video poi vengono condivisi su Facebook dopo qualche ora, in modo che lì, se vi sono interessati, li potete condividere a vostra volta sulle vostre pagine di Facebooc, di Facebook. Bene, ringraziandovi ancora per i risultati che ha raggiunto il canale, oltre 14 milioni di visualizzazioni al mese, il canale va verso i 160 milioni di visualizzazioni da quando è aperto, da novembre le visualizzazioni sono quasi triplicate, non so perché, realmente non l'ho ben capito quale sia il motivo, ma sono triplicate, probabilmente i video sono più visibili, dopo che si passa a un certo numero di visualizzazioni o di iscritti, probabilmente YouTube metterà i video più visibili. Questa è l'unica spiegazione che riesco a dare, se no non ne ho altre. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.